Ci troviamo incontrata a Castelluccio a Loreto a Prutino, torniamo a parlare di quello che è l'argomento da settimana qui proprio nel centro dell'area Vestina, cioè la nascita di questo biogas nel territorio comunale. Allora incontriamo oggi, dopo aver ascoltato nei giorni passati il sindaco Gabriele Starinieri, chi si è opposto fortemente a questo impatto ambientale, si è costituito un nuovo comitato e allora incontriamo Gaetano Carboni che ci spiega il motivo per cui è nato questo comitato, come si chiama e chi ne fa parte? Il comitato è nato da pochi giorni, si chiama Difendiamo Loreto a Prutino e ne fanno parte inizialmente produttori agricoli, allevatori della zona di Loreto a Prutino, del territorio, ma è un comitato che sta crescendo in espansione e in numero perché riteniamo allarmante questo progetto. Si tratta di un progetto che prevede che vengono portati qui una frazione di rifiuti organici urbani pari a circa 36.000 tonnellate annue. Quindi è veramente totalmente inadeguato e inopportuno dal punto di vista localizzativo realizzare un impianto del genere in un'area agricola di pregio che è sinonimo di qualità di eccellenza agricola in tutto il mondo. Sicuramente questa è una zona della vocazione agricola incredibilmente qualitativa. Pensare di creare un sediamento del genere in una zona come questa francamente significa distruggere non solo la qualità delle produzioni ma anche l'immagine delle produzioni che siamo riusciti a conquistarci nel corso degli anni. Lavoro serio, improntato a genuinità, a artigianalità e a rispetto dell'ambiente e a sostenibilità. Molto spesso in impianti di questo tipo si creano poi crepe in costituzionamento armato e quindi conseguenti sversamenti del contenuto. E qui siamo proprio a due passi dal fiume Tavo che in 20 chilometri ce ne vantiamo sempre ma da qui in 20 chilometri il fiume arriva fino al mare. Quindi in questo senso è un problema molto serio. Siamo andati anche un po' ad esaminare i loro bilanci. Abbiamo visto nell'attività che hanno fatto a Collarmene hanno un bilancio con 8 milioni di debiti su bilancio. Quindi insomma delle società che forse l'amministrazione comunale doveva esaminare un po' meglio. Ad esempio la sede legale di questa società è un fabbricato diroccato di Collarmene. Se qualunque ufficio vuole andare a fare un controllo la sede legale è inesistente. Invocherà tutta l'amministrazione comunale che tanto dice di questo progetto green eccetera. Perché hanno avuto bisogno di acquistare questi terreni con l'inganno? Io ho parlato, noi abbiamo parlato con i proprietari che hanno fatto il compromesso di questi terreni. Se non eravamo noi cinque giorni fa a dirgli che qua viene un impianto di biometano loro sapevano che venivano dei pannelli fotovoltaici. Quindi forse qualche dubbio e qualche indagine perché io voglio considerare anche che il sindaco stia in buona fede. Però da buon imprenditore quando si sceglie un fornitore si va a vedere l'onestà di questo imprenditore si va a vedere la serietà di questo imprenditore con la quale vengono questi scambi commerciali. Quindi forse qualche esame di più avrebbero dovuto farlo.